Musica Continuano le visite guidate dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli al Museo La Giostra della Memoria, gestito dall'Associazione MIA di Angiolina Balduzzi e Valina D'Alessandro. I ragazzi hanno avuto modo di esplorare alcune stanze tematiche del museo, medicina popolare, stanza della maestra e la transumanza. Ospite d'eccezione è stato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha colto l'occasione per salutare i ragazzi e ringraziare l'Associazione MIA per l'impegno e la disponibilità che da anni offre per promuovere e valorizzare le tradizioni popolari abruzzesi. E questo museo davvero testimonia non solo questo passaggio ma tutto ciò che insieme al passaggio dei passaggi si consumano lungo il percorso che poi è diventato davvero patrimonio culturale delle nostre genti. Quindi io ti faccio complimenti per aver promosso questa chicca, questo ferro all'occhiello di San Salvo. Perché penso che sia? Per noi è davvero un piacere avere l'ospitato, ma che credo sia anche un momento di arricchimento per i ragazzi. Insomma, questo ritorno al passato che ci permette di capire anche meglio il presente è l'origine di tante cose che noi tutti i giorni utilizziamo sia nel linguaggio sia come attrezzi e quindi è un momento di accrescimento culturale e formativo.